il letto è sempre più un tabù per gli italiani no non parlo di quel che avviene sopra ma di quel che vi è stipato sotto secondo le nostre indagini un italiano su trefica sotto il letto tutto quello che non sa più dove mettere non è bello comprate un letto chateau d'axe risolvete il problema aggiungendo solo un euro vi portate a casa anche il comodo contenitore grazie